Sabato 25 e domenica 26 torna a Termoli in piazza Vittorio Veneto il Carnival Village, quindi saranno due giorni di attrazioni, giochi per bambini, artisti di strada, tutto ciò insomma per intrattenere i nostri piccoli. L'invito quindi a tutta la cittadinanza a scendere in piazza e a condividere questo momento di gioia e divertimento insieme a noi. Grazie.